ciao cari sono atrix signori bentornati cari del canale siamo tornati su marvel snap con zano buongiorno caro non riesco proprio a parlarlo sai non ha una difficoltà incredibile nell'esprimere delle cose axel ha condiviso un parere oggi parlo io per te tranquillo faccio va bene va bro un altro parere che tu condividi senza fondamentalmente dircelo e verrai istantaneamente bannato da questo disco ok stiamo lavorando bro stiamo lavorando non mi sto divertito chi è tatillo a tu dice che già che c'è tatillo che solitamente sta qua parla di lavoro è una cosa che potrebbe essere fondamentalmente un po troppo da sd di zaga che stai a fare ieri bro perché purtroppo molti hanno effettivamente asserito il fatto che ci sia stata l'amnistia ieri perché hai doggiato guarda l'hai evocato guarda che l'hai evocato no non è tatillo l'hai evocato t'ho detto dobbiamo registrare le sette e mezza bro abbiamo registrato troppo tardi se n'è corto dalle sette quindi sarebbe stato comunque tutto allora perché ci hai pesciato ieri allora io sapevo allora matti però io sapevo che dovevo giustificharmi più col colonnello che con te perché lui poi se lega ste cose capito se via male perché se è napoletano vabbè giustificati con lui utilizzare la stessa giustificazione per perdonarti anch'io allora io ieri mi sono addormentato alle ore sette e trenta del mattino per svegliarmi alle ore sette e trenta della sera quindi che giustificazione non l'hai convinto è molta stanchezza accumulata per tutto questo cambiamento c'ho avuto la cagarella due giorni fa sono un po abbero non mi ha convinto vabbè però ti giuro giorni fa mica ieri allora ti faccio un'altra un'altra domanda ecco anzi altre due una secondo secondo te mattia mi darà i soldi del regalo dico e i soldi del regalo di aldo no risposta corretta seconda ci puoi dire cosa vorresti fare a shibuya zaro che devo fare shibuya io ho visto ho visto un un reel dove raccontavi cosa volevi fare a shibuya vuoi lanciare una bomba shibuya con marco togni ah sì certo che voleva andare volevo andarvi a farmi fare un massaggino ai piedi con happy ending da delle massaggiatrici giapponesi insieme a marco togni mio fratello mi hanno detto che ieri mobius l'avete usato una volta nel video quindi non è che tutta sta mancanza mia porco la fine è stata effettivamente bro devo darti ragione non l'abbiamo mai trovato ah scusami non non tatillo prego una disamina del mazzo scusami vabbè un mazzo c'è mobius ah un po' bello purtroppo purtroppo si zai ieri sarà stato per il fatto che tu non c'eri ma mobius è già uscito una volta e mezzo dico e mezzo perché una volta è uscito dal triskelion quindi non so nemmeno se si può valutare come una carta effettivamente pescata dal mazzo oggi con te sarà tutto diverso ma mancava il pezzo del tridente cioè alla fine capito quando c'è il tridente e mancava il terzo e il tridente non funziona e oggi in teoria quindi dovremmo avere non solo un viretto altissimo ma pescare mobius con tanta consistenza certo che cortanos non so quanto però che ho bello la nuova location oh bro doppio debildino pulito mazza che culo tra l'altro vabbè giochiamo la gemma rossa qua colonne nella speranza che a posto 4 debildini cioè se ci pensi sono un attimino aumentati madonna facciamo pure i cosmo magari passiamo no passiamo passiamo a lui in realtà a noi non ci rompe il cazzo mobius e ci pensi no la domanda se vogliamo fare i cosmo ma ovvio ovvio facciamo cosmo adesso facciamo real real stone però pure bro è meglio rompere nuovo per cazzo capito età di brome pari marco togni non rompe lucazzo e adesso fammi giocare ha presa giocato patriota messaggio ha perso scusami e noi facciamo debildino debildino aliot appoglio c'hai capito bro come perdo questo si ammazza io snappo io snappo regà e adesso già dico quello che succede quando sei pronto ovviamente quando sei pronto lui giocherà intorno a profix ok e quindi giocherà carta su necrocia apposta va bene va bene silversurfer doppio insomma ho capito bro noi però abbiamo messo comunque una salassata del ricoveri angliff capito e adesso che facciamo bro e adesso ne giochiamo un altro cosmo cosmo perché perché lui ti gioca super solfer ok ma più che altro vogliamo veramente perdere così tanti monti debildino e soprattutto colonne che posso chiamare mongolo no scusa mi dai veramente hanno già tempo da perdere che tu vuoi fare aliotto il turno dopo eh come c'è a fare il titolo se ci metteva sopra cosmo allora ha detto pure a colonne quanto sei caduto in basso per fatta insegnata l'ha detto pure a se lo scusa il culo tanto ormai tranquilla l'ha detto pure a sole per aiza pure tu che cazzo non puoi più perdere fisicamente ah regà lo sapete che su twitch le sub sono scolate del 30% in meno se oggi me ne droppate mille e martedì prossimo durante il nuovo season pass io e zano facciamano 24 ore tu ovviamente zano streami e stai con me ovviamente ok vuoi fare una 24 e in realtà è una cosa che mi sono inventato adesso però potrebbe essere una cosa interessante e se tu vuoi fare una 24 tu sappi che la notte sei coperto fino alla mattina se io faccio una 24 la notte mi assisti sempre certo ma regà ci inizia a lavorare e ci inizia a ragionare colonne tu mi assisti di buonamattina colonne sei da mercambio quando vai tranquillo ovviamente regà c'ho Axel che mi assiste tutte le 24 ore bravo Axelone Axelone ma chi d'ha insultato chi d'ha insultato ha insultato chi d'ha insultato chi d'ha insultato chi d'ha insultato chi d'ha insultato di giù eh allora legato faccio all'italiano Мобius eh scusate volevo di sta cosa eh no perché oggi c'è zano lo peschiamo Mобius eh zano sì in realtà noi l'abbiamo ancora pescato no no noi lo peschiamo sicuro senti che facciamo bro Sarecati la vogliamo fa? però falla non la fa sul laboratorio sto d'accordo con te abbiamo Shango C e poi c'è a priorità pure lui capito? abbiamo Shango C bravissimo abbiamo un sacco di ma bro va bene no non va bene no bro muti troppo a un armor non va bene bro non è che deve far ridere sta cazzata a parte il fatto che c'è Armut, Scarlett, Twitch e Marco Dozzi avrebbe fatto meno male mamma mia io spero tanto come è che ride che ride il signor Pacciani il signor Pacciani ah tu affangolo ci riti porco di ma tu potevi venire a giocare a GTA no io non posso farlo io GTA all play con te non lo posso far ma sei stato brevissimo su NoPixel bro che mi ha detto Giorgio che sei una hit un fenomeno e se Cosmo puoi fare sul laboratorio? eh lo so bro allora lo facciamo sotto ciclope oppure possiamo fare tipo Time Cosmo si si raga ma secondo me sapete che vi dico questo game secondo me è perso Misty Knight Mobius altre cose raga sarebbe anche da giocare Mobius se ci pensate perché adesso arrivi la wave no? eh fare Mobius in mezzo facciamo Mobius facciamo spesso a destra spesso qui e Psylocke no? a la fine la possiamo spostare tipo Dio bellissimo e è bellissima carità 1200 effettivamente si con la Psylocke è stupenda oh raga incredibile che non riusciamo a giocare pesce in C eh no eh Prio ci abbiamo Prio ma quella è una cosa normale raga qua tocca capi che turno fa ce lo facciamo in contestare location oppure dobbiamo giocare intorno a ah quindi si annulla proprio si si annulla proprio bro ah quindi non ci costa 4 Jeff no Jeff era un cogliore devi spostare prima l'altra carta e poi Mobius Jeff sono 12 punti ah raga voglio fare il problema è Elliot da D sei d'accordo con me che il problema è Elliot? anche Hulk anche Hulk allora fai Debildino in mezzo e Soulstone a sinistra io volevo fare una roba del genere no Soulstone io la farei a sinistra così si vinci tutti e tre i campi eh ma lui può spostare Jeff ma poi non vinco i campi da Dio ma ho spostato Jeff e Mobius ma come faccio a vincere i campi? vabbè bro sei ritardato Zalo diglielo tu Zalo diglielo tu no no che poi mi accusa di bullismo io non posso dire niente allora l'unico modo diciamo che vince sta partita è ah se tipo lui gioca a sinistra eh il problema è che lui potrebbe giocare tipo Hulk a destra e noi facciamo la fine di destra e vince ah le odessa non vince bro se sposta Jeff si se sposta Jeff si ah bro questo sicuro va Hulk sul laboratorio vabbè bro chiamiamo e andiamo a perdere sta partita fermati godo si godo ragazzi no non si godo ragazzi no non mi sa bene non si sa aspetta c'hiamo troppe poche carte bro 2-4-6-8-11 bro di un punto bro di un punto e non mi sa che c'è ma è vero perché sta merda non pesca più porco sarebbe stato comunque di un buddo bro se la madonna non sarebbe stata calugnosa e titanica ah bro sai che vincevamo co soulstone e Thanos a sinistra soulstone e Thanos a sinistra sto d'accordo con te tra l'altro caso vi posso fare una domanda perché abbiamo giocato da Vildino se Thanos faceva un punto di più perché pensavate che la gemma arancione pescasse ancora un po' perché pensavi esattamente lo pensavo anch'io lo pensavamo tutti però siamo tutti complici tanto è Axel Axel lo sapeva però non ha detto si è mutato per non dircelo stava fatto bene porca pari Gianmarco Tozzi mio fratello Gianmarco Tozzi come si chiama il giapponese di cui abbiamo appena parlato Marco Tozzi Marco Tozzi ah che cazzo è Gianmarco Tozzi io dovevo mandare due video di Marco comunque super inquietanti eh no no ne ho visto uno in cui si beveva tipo una grappa con l'occhio spiritato è possibile sì si stava tutto spiritato stava a bevere sta grappa capo a le rose e vabbè insomma e madonna man veramente quanto odio quanto odio che il fatto che abbiano nel fattore meno male che adesso giovedì cioè capito cosa? cosa fanno giovedì? giovedì bro Tozzi Tozzi Marco Tozzi e Timezone G4 bella io te lo snap in faccia bro io te lo snap in faccia io ti snap in faccia questa partita snap in faccia perché bro? perché sono con il fatto che lui non mi contro snap oh 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 vabbè viviamo oh oh ma Mobius do cazzo va bene e quale è il problema capo? comunque posso giocare la madonna zinga no? la voglia notate già che vai andiamo da destra ma ti è eh vabbè ma tanto bro ce l'aveva Allora, Blue Marvel Non mi fa la bocca Dove facciamo a Blue Marvel? O a destra o a sinistra Io sto già pensando Tanto possiamo spostare Jeff Fiamo glow in mezzo sicuro L'avete letto, regati, Jeff? Ha fatto in un sassa Ma quanti armor c'ha? Vabbè, gliel'ha dato il teatro del tempo Il teatro del tempo, bro Ok Psylocke, Soul Svolviamo per Blue Marvel, no? Ti piace? Bello E dove, no? Tutto quanto, tutto quanto Allora, se mi gioco a Wave In realtà va bene da dire Perché noi facciamo glow Se ci pensi, no? A voglia Cioè, nel senso Purtroppo non è un bombius Capito? Shuri Spiegatemi perché? Perché Bro Madonna Zan Che cazzo deve fare questo? Ok, regà Chi è? Allora Tutto il boom, secondo me Per me pure Dio Per me pure Cosmo in mezzo Da pazzi È da matti però Cosmo in mezzo Perché poi che cosa cazzo Gio Oh, dai, eroe Lui può spostare anche Jeff, regà Vabbè? Sì Ma mia, bro Che cosa terribile Allora Noi possiamo fare O contestiamo Trillocation Io veramente non so Con cosa Su cosa Per cosa Scusate 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 Non mi riesco a esprimere Quindi mi nervosisco 6 12 13 Noi possiamo fare power Possiamo fare clon Possiamo fare reality Posti Jeff E boh E sci Per forza In modo che vinciamo anche sul teatro del tempo No? Sì Così ne contestiamo tutte e tre Se fa dottor doom Dipende se sposta Jeff Sì Però in mezzo perdi Sicuro e perdi sicuro Matti è troppo tardi Devi far finire tu Dai Matti Ma non puoi fare dottor doom Regà Dai su Fate i seri Veramente Fa dottor doom Mi impazzisco Bro Dai No 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 Allora Paraluku Venga regà Giocato perfettamente Intorno Mamma mia La spostatina del Jeff È stata veramente Di vitale Di fondamentale importanza Tadillo Sì Dai imita Cosa Imita Enrico subito Così Così perlomeno ce lo togliamo dai Imita Enrico Ce lo togliamo dai coglioni Dai Dai A posto Direi che è perfetto Ottima imitazione Ma se poco poco Sto video Lo facciamo arrivare A diecimila like Per poter sbloccare Un piccolo Proclabino Su FIFA Già che ovviamente Mi è appena arrivata La ghini FIFA Capito? Certo Vabbè ma tu non ti sardi Se puoi dire Grazie Abbiamo scroccato Un altro gioco Quindi se volete Diecimila like Proclabino E oggi utilizzerò Questa cosa Bro Per lucrarci un po' No no Diecimila like Shoppiamo tre piote Shoppiamo E shoppi te E me le apri te Così mi dici Quello che trovo E le apriamo Insieme in share play E allora oggi Bro Approfitterò di questa cosa Visto che su snap Non so più che cazzo Comprarmi Perché mi sono comprato tutto Ieri ho aperto Vendi misteri varian Per dirti capito E utilizzerò Diciamo per grabbare Dei pacchetti su FIFA Vai Ogni 300 sub Una piotta su FIFA Ti ricorda qualcosa Bro In relazione sono io E appunto È chiaro Ma bro Devo piacere sempre Qualcuno Devo copiare qualcuno Ho copiato te Hai fatto bene Hai fatto un bescecchi Devo copiare Bro Hai di solito con la banca Matti No No dati Purtroppo no Mi è arrivata Un'email per l'andericiclaggio Con una serie di cose Da appuntarmi Ok Al che su note Io ho scritto Non so niente E ho mandato il form Vediamo se mi rispondono Capito Ha rotto il cazzo Vero? Ha rotto il cazzo Il teatro temporale Secondo me Eeeh Mamma Mobius ragazzi Mamma mia Comunque regà Un titolo in giro Un titolo in giro Un titolo in giro Facciamo Psylocke power Non abbiamo pescato letteralmente Una carta Dobbiamo giocare con quello che ci abbiamo Regà Ovviamente non colliamo uno snap Nel caso in cui l'avversario snappi Noi ci ritiriamo E bagniamo Axel da discord E si è mutato un'altra volta Si è mutato un'altra volta Inflammabile Ieri bro Un po' hai capito Il tossicismo che c'è stato Per colpa mia Deve essere onesto Ieri stavo I suoi confronti Sì no Di tutti Di tutti Che tipo Un ninja ti faccia una domanda Risposta Zitto Ritata Merda Cioè dopo a 6 livelli E' brutto Io sono andato a dormire Sì Allora c'è il colonnello Il colonnello è andato a dormire Ha fatto bene colonne Regà Com'è Loki Contro il mazzo nostro Colonne Eh se c'è il Mobius Eh Mobius purtroppo Ora non l'abbiamo trovato Provincia bro Tutte gemmette A zero Ah regà Metrassate sto processo Ah no Le gemme non c'erano Ma voglia Lui non prende le gemme È vero No ma scusa Sul collector Dici sti cazzi Eh sì bro Sti cazzi Sì Comunque Loki Non prende le gemme Loki non prende le gemme Ma soprattutto bro Secondo me Questa è la play Questa è la play Oh no E con Elliot Avrei pure snappato Oddio in realtà Se snappo Lui capisce bene Però Tanto rigiore Su South Tower Secondo me Capito Nice Sì Bro Non mi fa paura Il collector Bro Ma guarda quanti punti Abbiamo Decaup Profix anche Ancarta Sanci Sto è meglio Volevo di Sanci Ho detto Profix No velo di Sanci Bro Ovviamente Raga Giochiamo intorno ad Elliot Ho giocato intorno ad Elliot La domanda è Spostiamo Jeff a destra La risposta è In mezzo No in mezzo no Non ci arriva Non li fa sei punti Le collector Ah clou dici te Ah clou Clou Vabbè però clou va a 12 Scusa Però lo paga 4 Poi potrebbe fa Clou lo paga 4 Ho capito Però scusatemi Ragazzi Gli fa clou Poi perde sul teatro del tempo Eh sì La regala Blegh questa Ma Va 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 Top Ah Vabbè Ovviamente perso Ma non lo so Oh però va Cioè nel senso Nel momento in cui esatto Lui gioca Elliot Elliot è una carta È una giocata perdente Perché al massimo Ci può giocare attorno O una gemma O vabbè In questo caso Jeff Che tra l'altro È il nostro Quello dei Loki È il nostro E non può fare Elliot Cosmo Ragazzi miei Abbiamo demolito Un Loki Eccolo Vecchio di merda Mamma mia Bro è quello che è stato Che poi Per carità di Dio Non è nemmeno importante E finito il mazzo Perché quando vedi Il Thanos Oh Ma avesse dato una partita Una gemma gialla All'inizio game Una seghetta La Marco Tozzi Me la facevo Ma non è questo il problema Per carità di Dio Marco Togni Chi è Marco Tozzi Bro mo Mi sono fissato Cioè Purtroppo Lo sai come sono fatto io No Io mo mi sono fissato Adesso sarà Lui sarà Marco Tozzi Per il resto della tua vita Mi sono fissato Quo sta fatto Mi sono fissato Bro e quindi sarà Marco Tozzi Il grande Marco Tozzi Oh bello Ma che cazzo è Una su Vormir La giochiamo no? Sì Di realtà ne potremmo già pure due Bro se ci pensi Su Vormir No no Per Nebula Ah tu dici per Nebula Mi piace Mi piace Mobius anche lui E un'altra Nebula Ma regala Cosa importante È che non ci abbiamo Prio Ci abbiamo Prio Dipende Dipende E noi Non ci abbiamo Non ci abbiamo Prio E allora bro Io te te lo posso Solo profisso Vai Perfetto Non deve essere una costruzione Non deve essere un lavoro Il tuo capito Stai tranquillo Il tuo lavoro Il Cioè Beh Contributi Eh Eh Vengo Le cosplay Ah bro Mi ho vinto a sinistra Adesso bro Quello che dobbiamo fare È una cosa Una cosa Me la dici te però Perfetto Perfetto Che dobbiamo fare qua È easy Il dinosauro Il dinosauro Prendiamo Prio Facciamo Elliot Esatto Il dinosauro Ma lo facciamo qui Lo facciamo Sì Eh Eh Come vuoi Da te non lo puoi spostare Jeff Quindi Ho capito bro Da che parte stai Va bene Va bene bro Ma però non prendiamo Prio Sti cazzi E No Ce l'abbiamo E come Abbiamo due location Perdi Perdi Solo in un caso Ma tu Prego Ah ma regà Ma gli è andato il buff Gli è andato Vabbè Jeff è un 3 eh È vero Perché c'è la soul In che caso perdo bro Se Miss Knight Baffa di nuovo Jeff E lui gioca Hulk Ti rendi conto Che io non posso Non ultimare questa partita Per questa stupida Prediction Che ha appena fatto Anche perché Il teatro del tempo Gli ha sdoppiato Marco Capito Eh sì Ah però Non snappo O snappo Snappa Non ho capito Non ho capito Umile Umile Vabbè umile Umile Ragazzi avrà giù Axel Un'altra volta Avrà giù Axel Un'altra volta Vabbè ma noi dobbiamo Far vedere come funzionano Le carte Capito Altrimenti capito Lui non avrebbe chiamato E noi non avremmo condiviso Questa preziosa partita Capito Con Con Pubblico Mobius Con Marco Togni Con Marco Mobius Però comunque Dici qua Ma Mobius A che è servito Come che è servito Come che è servito Lui ha fatto Io avrei potuto fare Anche Cosmo Power Mindstorm Capito Ma non so Ho fatto Elliot Ma avrei potuto Ma perché scusami Non sia con Wave E Mobius Perché c'ha Mobius Pure lui No Perché c'ha Mobius Pure lui No in realtà Perché ti ho detto No certamente Quindi tutte le carte Sono al loro prezzo originale Quindi lui fa Wave In caso lui In caso lui Cioè in caso tipo Lui non avesse usato Mobius Avesse fatto Wave Il nostro Elliot Sarebbe costato 4 E tutto il resto uguale Sì No diciamo che Esattamente Bravissimo Ok ok E avremmo potuto fare Amore Elliot Power Mind Capito Bellissimo Follia Spettacolo Vabbè va Mattia comunque C'è la Roppi Che dice Noi ci vediamo Oggi In live su Twitch E al raggiungimento Delle mille sub Andiamo subito A giocare A Formula A FIFA A Formula A FC A FC A FC Ovviamente Verrei contattato Zato in un precedente momento Dicendo Oh bro sto arrivando A preparare le bimbe C'è una roba Se avete qualcosa a dire Fatelo adesso Perché Devo andare a massare Ci sto dicendo Erri 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 No Sergente Nicholson Grazie Grazie ragazzi A domani Grazie ragazzi Un bacio Un abbraccio A te